Abbastanza, sì sì. La posizione perfetta, le dimensioni eravamo in cinque, quindi insomma bisogna avere molta confidenza se si affitto questo apportamento. Chiave? Facile, quello sì. Abbiamo prenotato su internet, abbiamo lasciato una caparra e poi è venuto il ragazzo a darci le chiavi, tutto bene. Chiave? Certo, abbiamo visto il nostro amico che vive qua. Loro due che hanno visitato meno la città, hanno visto Park Güell, la Sagrada Famiglia, noi siamo stati altre volte. Sì, è preferibile per un gruppo di amiche che noi vivevamo insieme, quindi l'appartamento è la scelta più consona.